Mab&Co, formazione e strategie per l'evoluzione del business, MabManagement.it Il tele riparte e riparte dal gruppo che ha centrato il gambidissimo obiettivo e qualche ritorno che c'è stato dopo i prestiti della passata stagione e quindi un precampionato per adesso senza grandi novità, quella che dovrà essere annunciata probabilmente in giornata, verrà presentato nei giorni prossimi e certamente Janko che alla fine ha raggiunto l'accordo e oggi si sottoporrà alle visite mediche per mettersi a disposizione del tecnico Ranieri. Un centrocampista insomma che andrà a togliere il posto a quelli che sono partiti. Che andiamo a vedere? Per l'elenco c'è Altare che in difesa finché non arriva altro giocatore rimarrà in concorrenza con Hobert. Aresti che sarà il terzo portiere, Azi confermato, Barrecca che probabilmente anche lui potrebbe fare le valigie se si trova un esterno di sinistra, Capra Dolossi che pure si troverà in una situazione di questo tipo, Ciocci idem con Patate perché anche per lui probabilmente si aprirà la possibilità di un prestito e quindi De Iola, Del Pupo del quale si parla per un possibile passaggio all'Olbia, De Zogus che dovrà essere valutato da Ranieri ma che fa parte anche dei giocatori di mercato, e quindi Di Pardo, Dossena, Goldaniga, Curfalidis, Lapadula, Lella, altro potenziale partente, Luvumbo, Makumbu, Mancoso, Nandez, Hobert, Pavoletti, Pereiro che si dice che non rimarrà a Cagliari, Sulemana il nuovo arrivo, Radunovic, Rog, Travaglini, Viola e Zappa, anche per Viola la possibilità di cessione è concreta. Insomma è un Cagliari provvisorio per molti aspetti, Gianclova e il nuovo acquisto insieme a Sulemana per dare potenza al centrocampo e agli esterni. Per adesso sono i due reparti che hanno avuto i loro rinforzi. Da vedere qualcosa anche in fase difensiva, chiaramente in fase d'attacco dove si aspettano delle conferme per capire un po' come muoversi. Non ci sono promozioni dalla primavera, non c'è nessun giocatore che arriva dalla primavera, forse uno solo adesso è del Pupo, ma per il Pupo abbiamo detto che già la prospettiva è quella della cessione, quindi non si tratta di un passaggio diretto. E molti in primavera partiranno invece destinazione Olbia per tentare di fare ossa come doveva essere per altri giocatori, molti dei quali mai tornati rimasti ad Olbia stesso. Ad esempio uno dei grandi profili dell'Olbia negli anni scorsi che sarebbe potuto essere un giocatore di ritorno a Cagliari, Bianco, ma per lui si parla di un passibile cessione, sì, ma verso una squadra di serie B, chiaramente non per ritornare a Cagliari. Insomma, vediamo un po' quello che il mercato ci dirà e soprattutto vediamo questa fase di lavoro. Si riparte e bisogna stare attenti perché l'entusiasmo è più, sì, tutto quello che volete, però è serie A. È serie A nello sport, chiuso un capitolo, inizia immediatamente un altro. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it